Sant'Anna di Stazzema, è qua che si respira più forte che in ogni altro luogo il senso di questa giornata di festa. Qua dove si è consumato uno degli eccidi più tremendi della ritirata nazifascista. E in tanti da tutta Italia hanno scelto proprio questi luoghi per festeggiare il 25 aprile, festa della liberazione. Da Rocca Bianca perché il 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema? Perché per non dimenticare, per regare un amaggio ulteriore a queste persone e a quello che è stato. Quindi nel momento poi particolare che stiamo vivendo credo che la memoria sia un dovere civico prima di tutto e poi un obbligo e una necessità, anche una necessità. In vacanza alle 5 terre, per il 25 aprile ci siamo allungati fino a Sant'Anna per festeggiare il 25 aprile. Per visitare nuovi luoghi diversi, che comunque sono stati importanti per la resistenza. Diciamo che a Livorno è parecchio sentita la cosa, come in tutta la Toscana. Una giornata che è iniziata con l'avvio dell'installazione artistica ideata da Gianni Moretti e sostenuta dalla sovrintendenza. Anna, monumento all'attenzione. Un progetto che prevede l'installazione di 27.000 chiodi a forma di cardo. Tanti quanti sono i giorni che avrebbe vissuto Anna Pardini, la vittima più piccola della strage del 12 agosto, con i suoi 20 giorni di età. I chiodi saranno piantati da chiunque lo desideri lungo il sentiero che parte da Sant'Anna e arriva a Val di Castello. La forma dei chiodi è stata studiata dall'artista per riprendere un'antica leggenda tedesca, in base alla quale un cardo nasce là dove è stato versato il sangue di innocenti. Un monumento diffuso che sarà realizzato negli anni a venire senza limiti di tempo né di spazio. Il primo chiodo è stato piantato da Adele Pardini e poi via via tutti gli altri superstiti e familiari delle vittime dell'Eccidio e Enrico Pieri, presidente dell'Associazione Supestiti, è vera e propria coscienza di questi luoghi. Oggi è un giorno importante, il 25 d'abrile, tanti dovevano, anche tanti politici devono sapere cosa è il 25 d'abrile. E se abbiamo avuto 70 anni di pace e di benessere è iniziato dal 25 d'abrile. Tutti, rossi e neri e bianchi.